. Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 12 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo vergine. Felici con tante stelle a favore. Giornata felice questa lunedì d'agosto per voi, con la luna amica in se stile amica dei vostri ospiti, Mercurio e Venere, come voi amanti dell'arte e della natura, che vi piace approcciare con delicatezza. Passeggiata tranquilla a passo lento, godendo della variazione del paesaggio a seconda dell'altitudine e dell'ora, per chi ha nozioni di botanica anche la presenza di questa o quella pianta alla sua da raccontare, non solo in senso scientifico, anche leggendario. Le tradizioni locali spiegano molto, la storia, la geografia, i contatti religiosi e la situazione economica dei luoghi, che come alberi maestosi affondando le radici in un passato remoto ma protendono i rami verso il futuro. Mente sempre al lavoro, anche nei momenti di relax, quando sonnecchiate, passeggiate e naturalmente quando leggete pigramente sdraiati al sole, non troppo però ben sapendo che va goduto solo nelle ore giuste, avendo cura di proteggere l'epidermide con una crema adatta. Alcune coppie potrebbero vacillare o si potranno addensare nubi tra i partner. Alcune scelte che si faranno si riveleranno sbagliate. Si cerca di imporre il proprio punto di vista soprattutto in amore, questo provocherà della crisi. Buone Prerp Gatove per i nati di lunedì e sabato, potreste avere anche qualche colpo di fortuna consistente. Amore in bilico, l'incertezza sarà padrona della vostra serata. Di scena la casa. Novità riguardo a una relazione importante, in serata. Sarà una giornata da ricordare. Fai cose diverse dal solito. Accetta un invito. Oggi sarà tutto nelle tue mani e non in quelle del destino. Prudenza. Chi crede di poter fare a meno di amici e collegi isolandosi sbaglia due volte, oggi è proprio il giorno di coltivare questi rapporti e di migliorarli. Buon per voi se oggi aiuterete qualcuno che è in difficoltà, non siate egoisti. La provvidenza aiuta tutti e oggi tocca agli altri. Non abbiate fretta di concludere qualcosa che vi sta a cuore, ragionate prima di prendere qualunque decisione che potrebbe risultare impulsiva e azzardata se non ponete allo studio quello che state per decidere e fare. Fate pulizia tra le vostre amicizie su Facebook e sui social in genere, è ora che prendiate atto che meglio avere profili più corti, in fatto di amicizie, che averne tante. Ma fumose. Non lasciate oggi che il dubbio entri nel vostro cuore, le vostre incertezze dipendono in buona parte da questi vuoti che si aprono improvvisi per i tanti dubbi che vi attanagliano. Potreste essere interessati a una nuova situazione a cui potreste pensare di dedicare una buona parte delle vostre risorse per avviare un nuovo progetto o per perfezionarne uno in essere. Quanta pace oggi potrebbe attraversare il vostro cuore. Solo che dovrete risolvere alcuni problemi di rapporti con gli altri. Chiarite quanto ritenete opportuno chiarire, ma non siate troppo intransigenti con gli altri. Siate disponibili ad ascoltarli e a chiarire con loro ogni particolare. Venere in perfetta congiunzione nel vostro segno vi spalleggia con tutti i suoi benefici in flussi. È un momento di bellezza fisica notevole per tutte le signore del segno. E la fase d'agosto è serena, riuscite a ritrovare una convivialità e un'intesa familiare come non accadeva da tempo. Il sole alle spalle vi illumina interiormente, al di fuori non si nota, più debole ma rassicurante invece la luce della luna amichevole in scorpione in se stile, in barba alla quadratura di Plutone che la vorrebbe oscurare, ma non ce la fa. Pensieri per il lavoro anche la lunedì, soprattutto se avete un turno da sfangare o qualche rompicapo chi riesce comunque a insinuarsi negli svaghi e nei piaceri del momento senza chiedervi il permesso. Scocciati, ma con un ferreo controllo della situazione, sottolineato quest'oggi dallo strettissimo abbraccio di veneri del vostro astro guida Mercurio alleati nel segno. Con la loro complicità anche oggi riuscirete a far quadrare il cerchio, una bella escursione in montagna o tra rovine archeologiche, una giornata di lavoro, se conviene per il guadagno e il buon nome della vostra attività, ma soprattutto coccole e carinerie dedicate a voi stress, specie se venite da un momentaccio difficile e avete bisogno di affetto sia fisico sia interiore. La natura è la valvola di sicurezza, per il corpo prodotti erboristici con piante raccolte e lavorate con la luna giusta, perché ciascuna ha la sua griffe, così come i cristalli, i luoghi, le persone. Arte e natura l'ancora di salvataggio per la vostra serenità, le vacanze e i sentimenti. Introspezione e moderazione anche oggi le parole chiave. Amore ed eros. L'amore sboccia e fiorisce in voi come una rosa di montagna, amate profondamente tutto il vostro universo affettivo, il partner, i figli, il quattro zampe, di più, amate gli amici e tutti coloro che vi gravitano attorno, anche facce appena conosciute e poi le piante, gli animali, la natura, la vita. Ecco perché siete così giovani e belli, il tempo su di voi passa senza lasciare traccia, conservate solo le emozioni più dolci, quelle che non fanno male, chiudendo le altre fuori dalla finestra. Lavoro e denaro. Netta linea di demarcazione tra quelli che oggi sono di corvè per viaggi e svaghi altrui, e quelli che invece il viaggio, la natura e l'arte se li stanno godendo in prima persona insieme al partner o agli amici. Condividere emozioni, la visuale delle cose, esperienze insolite, avere la stessa visuale delle cose facilita la coesione e rafforza l'intesa. Forte la voglia di comunicare agli altri ciò che provate, vedete, sentite e se non avete la penna del poeta o del pittore lo fate postando belle foto. In primo piano però animali, piante, paesaggi, non voi, non cercate conferme o plausi alla vostra bellezza, anche se, lo avete già notato personalmente, l'aria buona e l'attività fisica vi stanno trasformando in uno schianto. Benessere. Sani e belli, il corpo tonificato dall'attività fisica, soprattutto le scarpinate nel verde che oltre a farvi bene vi gratificano emotivamente, l'anima nutrita dall'arte e dalla contemplazione della bellezza che salverà il mondo, dice Dostoievski, ma intanto comincia a salvare voi. Per lei, snobi nervoso ma non potete dargli torto, se vi vede caricare l'auto di tutto fuorché della sua ciotola e della sua brandina mangia la foglia, vorrà dire che anche questo agosto lo parcheggerete dai nonni, che lo viziano vergognosamente ma a lui non importa. Vuole voi. Per lui, quanto vi piace leggere sdraiati nell'erba o in un bosco, con la schiena appoggiata al tronco, è come se le parole in un contesto così tranquillo si fissassero meglio nella mente, lasciandovi un solco indelebile. Proprio sicuri che il libro sia il tramite giusto? Come scrive Alberto di Chiaravalle, troverai più nei boschi che nei libri. Colore delle emozioni, verde foglia. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Beneessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.